Buongiorno, questo è Sirio da Spottom e oggi vorrei mostrarvi un 3-bedroom apartment che si chiama in Viale Caduti della Guerra di Liberazione. Siamo nel distrito Spinaceto, sul sud del centro della città. Siamo molto bene connessi al centro città e la stazione di bus è circa 100 metri dall'apartement. Ok, questo è l'entrante. Siamo qui in un luogo vivante. È un luogo grande con una tavola. In realtà può essere usato come un luogo. Abbiamo un luogo, un armature e un balcone. Questa è il luogo quarto. La vista è buona. Il luogo è quieto e è residenziale. S Ovunera da l'apartement. Questo c'è giusto per l'appartement. È uscita per l'appartement. Questa è una città. Qui abbiamo una tavola per 4. Il corpo per l'angenea. La città, l'ovzione. Il corpo per il corpo. Il corpo per l'armak. anche qui abbiamo le bambini questa è la prima parte la sintonia, la toilet, la bambina la bambina la bambina la bambina e questa è la bambina numero uno è una sola bambina una sola bambina una cesta, una cesta, una desk una cesta, una tina soffa e una cesta una bambina una bambina e un bambino e un bambino numero due una cesta 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 e una cesta e abbiamo accesso a la bambina come potente amarga una cesta una cesta una cesta una cesta una cesta un solito so far here wardrobe and this is the second bathroom we have washing machine sink toilet bidet and here we have the shower ok if you have any other questions please visit this button on our website I hope you will have an answer here thank you very much bye bye